Lavoriamo per costruire una vera cultura dell'incontro che vinca la cultura dell'indifferenza. E questo è l'invito lanciato questa mattina da Papa Francesco nella messa mattutina a Casa Santa Marta. Il servizio di Marilena Pastore. L'incontro verso l'altro vince l'indifferenza. Papa Francesco questa mattina a Santa Marta ha messo l'accento sull'incontro di Dio col suo popolo e ha messo in guardia da quelle cattive abitudini che anche in famiglia ci distolgono dall'ascolto dell'altro. La parola di Dio esordito il Papa ci fa oggi riflettere su un incontro. Lavoriamo per costruire una vera cultura dell'incontro che vinca la cultura dell'indifferenza a Monito. Le persone si incrociano tra loro ma non si incontrano. Ognuno ha detto con ramarico il pontefice pensa a sé, vede ma non guarda, sente ma non ascolta. L'incontro è un'altra cosa, è quello che il Vangelo oggi ci annuncia. Un incontro tra uomo e una donna, tra un figlio unico vivo e un figlio unico morto. Tra una folla felice perché aveva incontrato Gesù e lo seguiva e un gruppo di gente, piangendo, accompagnava quella donna che usciva da una porta della città. Incontro tra quella porta di uscita e la porta di entrata. Un incontro che ci fa riflettere sul modo di trovarci tra di noi. Nel Vangelo, ha proseguito Papa Francesco, leggiamo che il Signore fu preso da una grande compassione. Questa compassione a Monito non è lo stesso che noi facciamo quando andiamo sulla strada, per esempio, vediamo una cosa triste, Gesù non passa oltre, viene preso da compassione, ribadisce. Si avvicina alla donna, la incontra davvero e poi fa il miracolo. L'incontro con Gesù vince l'indifferenza e restituisce dignità. Di qui, ha detto il Papa, vediamo non solo la tenerezza ma pure la fecondità di un incontro. Ogni incontro, ha sottolineato, è fecondo. Ogni incontro restituisce le persone e le cose al suo posto. Noi siamo abituati ad una cultura dell'indifferenza, dobbiamo lavorare e chiedere la grazia di fare una cultura dell'incontro, di un incontro fecondo che restituisca ad ogni persona la propria dignità di figlio di Dio, la dignità di vivente. Noi siamo abituati a questa indifferenza quando vediamo le calamità di questo mondo, anche le piccole cose, ci rattristiamo ma andiamo oltre. La gente, ha sottolineato Francesco, è preso dal timore e glorificava Dio perché aveva fatto l'incontro tra Dio e il suo popolo. A me, ha soggiunto, piace vedere anche qui l'incontro di tutti i giorni tra Gesù e la sua sposa, la chiesa che attende il suo ritorno. Anche in famiglia viviamo il vero incontro, a tavola ascoltiamoci tra noi. Questo ha ribadito il messaggio di oggi, l'incontro di Gesù col suo popolo. A tavola, in famiglia, quante volte si mangia, si guarda la tv o si scrivono messaggi sul telefonino, dice il Papa. Ognuno è indifferente a quell'incontro, anche proprio nel nocciolo della società, cioè la famiglia, non c'è l'incontro. Che questo ci aiuti a lavorare per questa cultura, così come semplicemente ha fatto Gesù. Non solo vedere, dice il Papa, ma guardare, non solo sentire ma ascoltare, non solo incrociarsi ma affermarsi, non solo dire peccato ma lasciarsi prendere dalla compassione vera e poi avvicinarsi, toccare e dire nella lingua che ad ognuno viene in quel momento, la lingua del cuore, non piangere e dare almeno una goccia di vita all'altro.